Evento eccezionale qui stanotte alla Canniccia, allora abbiamo Tommy V, ciao Tommy Ciao, ciao, grazie per l'eccezionalità, perché è eccezionale? Certo, certamente, veramente. Allora Tommy, senti tu hai iniziato tutto diciamo con il grande fratello Direi che questo è un errore grossolano, hai iniziato tutto a 14 anni Vabbè noi, almeno io, io ti ho conosciuto il Tommy del grande fratello Allora senti, comunque è un'esperienza che tu rifaresti volentieri con il grande fratello? Assolutamente sì Perché? Perché è una bella esperienza, è molto emozionante, molto divertente Ed è un'esperienza che se la sai usare con intelligenza ti cambia la vita Senti, come ti senti, vabbè tu dici che hai iniziato a 14 anni, ok Come ti senti quando vieni acclamato comunque dal tuo pubblico mentre suoni? Ma, direi che l'esperienza più gratificante per un disgioco immagino sia E per qualsiasi artista, io non mi considero un artista, però per chiunque comunque si esibisca e si confronti con un pubblico Il fatto che il pubblico sia gasato e si diverta per quello che stai facendo è in assoluto l'esperienza più gratificante Ecco, tu comunque hai fatto delle produzioni e hai lavorato anche molto all'estero Secondo te c'è qualcosa che la musica dance italiana può imparare comunque da delle sonorità estere? Ma io direi che sì, sicuramente, nel senso che attualmente c'è un grosso fervore in tutta Europa L'America che nell'house music faceva da padrona è un po' in secondo piano oggi come oggi L'Europa sta tendenzialmente vincendo sulla dance perché in America ha vinto l'hip hop sulla dance Quindi nei locali si balla hip hop, invece in Europa comunque si continua a ballare principalmente house, dance music, techno Comunque quello che è, però musica up tempo, veloce, sopra i 120 bpm almeno Noi italiani abbiamo comunque da imparare però non dimentichiamo che siamo tra i migliori produttori al mondo di dance music Quindi abbiamo avuto numerosi numeri 1 in classifica, sono illustri artisti e produttori italiani Direi che anche la nuova generazione, quella che sta crescendo adesso, non è per niente male Ecco appunto, allora io non vorrei rubarti tanto tempo per chiudere Un consiglio comunque a quei ragazzi che vogliono fare un po' la tua strada Più che consiglio è sempre più difficile, questa è una considerazione importante da fare Perché c'è crisi, tutti vogliono fare i disgiochi Il problema è questo, che molte persone vogliono fare i disgiochi per diventare quello che vedono dietro la consona Per diventare il personaggio, per diventare quello che è amato dal pubblico No, il presupposto deve essere diverso Cioè il motore deve essere un altro, il motore deve essere la musica, deve essere la passione E se parte da questo, probabilmente ha dei buoni esiti Se uno fa questo lavoro solo perché vuole essere protagonista O per attirare l'attenzione in qualsiasi modo, glielo sconsiglio No, anche perché è veramente difficile, quindi solo la passione può sostenere una fatica tale Ok, allora io ti ringrazio, buona serata a quella canniccia Grazie a te Grazie di aver caduto con me Grazie a voi, ciao